Eliseo Iannini, imprenditore titolare della CGRT, impresa che avrebbe dovuto realizzare la metropolitana dell'Aquila e il suo avvocato Massimo Manieri. Sono loro gli ospiti dell'audizione in commissione al comune questa mattina. Una storia che va avanti da lontano 99 e che l'imprenditore aquilano ha ripercorso passo per passo. La questione riportata in comune stamane è stata quella del capannone di Pettino, espropriato poi per la rimozione macerie. La questione della proprietà dunque sul piatto, tra licci e rotaie sono del comune invece, in quanto il terreno è del comune stesso, mentre sembrerebbe invece rimanere alla CGRT la proprietà del capannone, pur avendo ricevuto parte del finanziamento per l'esproprio. Per il consigliere comunale Angelo Mancini il comune deve decidere senza il parere della Corte dei Conti, chi amministra deve prendersi le sue responsabilità, tuona. La giunta nel 2013, mi pare aprile 2013, fa un atto di indirizzo al dirigente del settore opere pubbliche e ricostruzione e dice soltanto di iniziare a portare a termine una transazione con la CGRT e la somma indicata in quella delibera di giunta è di circa 6 milioni e 7. Adesso queste riunioni di commissione e anche l'intervento fatto dal sindaco in consiglio comune non servono assolutamente a nulla. Quando si amministra una città le responsabilità e gli atti che bisogna fare sono divisi tra giunta, che fa le delibere di giunta e i dirigenti con le determini dirigenziali. Come è noto il TAR ha bocciato nel marzo scorso il ricorso dell'azienda contro la delibera con cui il comune annullò la convenzione per realizzare l'opera. Ora si discute sulla transazione. Il comune offre alla CGRT per chiudere il caso 6,7 milioni di euro, che in prima battuta come indennizzo l'impresa di Lannini rifiuta. Si riuscirà prima o poi a mettere la parola fine sugli strascichi di questa grande incompiuta? Questa cosa così intricata ha tutti gli atti e gli atti sono a disposizione del dirigente e della giunta. La cosa che chiedo è che decidano perché più si ritarda la decisione, più si perde tempo a sistemarla e chiaramente interessi, cause e altre cose faranno lievitare ancora di più la cifra.